Ciao a tutti ragazzi, in questa nuova recensione parliamo della nuova tenda The North Face Trail Light 2. Una tenda pensata principalmente per il trekking, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno recensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questa The North Face Trail Light 2. Per quanto riguarda la struttura troviamo una tenda doppio telo e autoportante, con un'impermeabilità di 1200 millilitri di colonne d'acqua per il telo esterno e 5000 per il catino. Il tutto per un peso di 2 kg quando dobbiamo trasportarla in giro. Detto ciò iniziamo con pregi e difetti. Iniziamo con il nostro consueto giro attorno alla tenda, vi faccio vedere la prima parte dove troviamo la paleria, soprattutto nella parte bassa. Qui cosa troviamo? Una fettuccia arancione che ci serve per andare a tirare la tenda quando andiamo a fissare il picchetto e poi troviamo le due fettucce che vanno a unirsi con la paleria per andare a tirare sia il telo interno che il telo esterno. Come potete vedere poi qui abbiamo tutta la parte per poter tirare la tenda per tenerla ben tensionata. Salendo un pochino troviamo invece il cordino da andare a tirare e in caso ci sia forte vento vogliamo comunque aprire la tenda per avere più spazio all'interno. Dentro, all'interno del telo esterno, troviamo anche un velcro da utilizzare per andare a fissare il telo esterno sulla paleria per avere una maggior sicurezza. Continuando, vi parlo che qui a metà troviamo un altro cordino, sempre arancione, da andare a fissare per terra per aumentare un attimo la grandezza della camera, soprattutto l'area azione. Come potete vedere poi nella parte qui mediana dove c'è il cordino, sono andati ad aggiungere una parte di tessuto per evitare che proprio tirando la tenda qui si possa strappare o comunque possa rompersi la tenda. Continuando, poi la tenda è abbastanza simmetrica, questo cosa vuol dire che qui troviamo un altro palo con le medesime funzioni, con le stesse fettucce e via dicendo. Di qua troviamo la prima porta, quindi questa tenda ha due porte e due absidi, poi vi faccio vedere dalla porta principale come sono fatte. Nella parte superiore, qua in alto, come potete vedere troviamo tutto un rinforzo che ci serve per andare a rinforzare la tenda, per il palo trasversale che tiene ben aperta la tenda e le absidi. Quindi, bene. Continuando, arriviamo da quest'altra parte, anche qui allo stesso identico modo troviamo le due fettucce sulle parti laterali per andare a tirare la tenda e via dicendo. Quindi anche qua in basso poi allo stesso modo troviamo sempre la fettuccia arancione da andare a fissare per aumentare la grandezza della tenda e aumentare la reazione. Questa fettuccia che vedete qua, arancione, adesso vi farò vedere, serve per tenere aperta la porta principale. C'era anche dall'altra parte e adesso vi faccio vedere. Detto ciò, abbiamo fatto il nostro consueto giro attorno alla tenda, possiamo iniziare a vedere la porta principale e le absidi. Inizio a farvi vedere una delle due porte, parlandovi dalla parte dove abbiamo il picchetto nella parte bassa. Qui possiamo picchettarla con un singolo picchetto e abbiamo due fettucce, una della porta e una della parte restante della porta e volendo possiamo anche andare a tirarle per tenerla ben tensionata. Andiamo ora ad aprire la porta principale. Vabbè, qui troviamo un velcro, troviamo un po' di velcro per alleggerire la pressione sulla cerniera e aprendo la porta principale potete già vedere che questa porta è veramente enorme. Adesso io la faccio un attimo su, molto velocemente. Come vi dicevo prima, qui nella parte laterale troviamo il gancetto dove andare a far su la porta. Questa è la veranda. È una veranda abbastanza ampia, ci sta tranquillamente uno zaino, anche di grossa dimensione da 80 litri, ci sta. C'è anche possibilità di cucinare nel caso dovessimo bisogno che dovesse piovere una sera. La cosa, trovando un attimo il pelo nell'uovo, che non mi piace tanto, è che non possiamo aprire l'altra parte o meglio possiamo aprirla ma non c'è un gancetto per farla su. Se veramente un gancetto potremmo aprire completamente la porta. Vabbè, per quanto riguarda poi invece la parte interna, anche qui troviamo una porta abbastanza ampia, davvero molto ampia, con due cursori e anche qui possiamo far su la tenda in modo tale di andare ad agganciarla con la clip messa qua. La prima cosa che si nota entrando in questa tenda è che è veramente molto grossa, è veramente molto vivibile. Siete conto che io solo se apro completamente le braccia riesco a toccare le due parti della tenda e soprattutto anche in altezza veramente c'è più di una spanna, quindi è una tenda molto larga in cui due persone all'interno si muovono con molta facilità. Per quanto riguarda invece l'altezza vado come solito mio a sdraiarmi, vi ricordo che io sono sempre alto un metro e novanta, troviamo un buon 10 centimetri ancora nella parte della testa, quindi anche pensando di alzarsi con un materassino sicuramente non picchieremo. Tutta questa vivibilità è garantita dai pali che sono preformati e che hanno la parte inferiore un pochino più verticale, quindi che poi va successivamente a diventare curva, in questo modo la tenda tende a essere molto larga. Questa tenda però ha un problema di condensa, non so se ci avete fatto caso prima quando facciamo il giro attorno alla tenda non vi ho fatto vedere nessuna apertura per far uscire l'aria, infatti da qua l'aria non esce se non dalla parte inferiore diciamo tra l'altezza del telo esterno e il terreno e questa tenda ha veramente un grosso problema di condensa. È una doppio telo sì, infatti la condensa comunque può attendere a non dar fastidio, ma se dovessimo trovare la notte particolarmente fresca e quindi tanta condensa, la condensa tenderebbe a cadere e dato che troviamo solamente un telo interno fatto in zanzariera, accadrebbe anche all'interno della nostra tenda. Quindi vi assicuro che questa tenda davvero ha un grosso problema di condensa. Parlando di cuciture, queste sono ben fatte, in molti punti sono doppie, sono termonastrate quindi davvero ben fatte, qualità buona. Io questa tenda l'ho stressata soprattutto anche sotto forte vento, non ha avuto nessun tipo di problema e proprio parlando di vento con questa tenda potete andare abbastanza tranquilli perché comunque avendo una struttura così autoportante e coi pali che si incrociano a x diciamo che andate tranquillamente anche fino a 60-70 km di graffica di vento, quindi per il vento non è un problema. L'unica cosa è che non avendo nessun tipo di telo coperto nella parte interna ma essendo tutta zanzariera il vento all'interno passa, ne passa tanto, quindi se non avete un buon sacco a piedi rischiate di passare una notte al freddo. Per stivare gli oggetti all'interno troviamo due tasche nella parte superiore in cui possiamo andare a stivare un po quello che vogliamo, tanti oggetti davvero c'è molto spazio. Nella parte inferiore invece sul perimetro del telo interno non troviamo nulla quindi non ci sono ulteriori tasche. Infine per quanto riguarda il catino questo comunque è fatto bene il materiale fatto bene a me non si è strappato se poi siete interessati alle impermeabilità di tutta la tenda vi ricordo che ho già fatto il video di montaggio e test impermeabilità che come solito vi lascio qua in alto a destra. Arriviamo alle conclusioni per questa The North Face Trail Light. Dove è meglio usarla? Sicuramente solo per il trekking. Questa tenda ve la consiglio solo per il trekking non pensate di farci alpinismo. Può andare bene per trekking in climi caldi perché comunque tenendo solamente la parte interna di zanzariera di aria ne passa quindi potrebbe anche starci. Se ve la consiglio sì e no. Diciamo che ci sono a mio parere due grossi problemi in questa tenda. Il primo è la condensa. Davvero di condensa ne fa tanta perché non dà punti l'aria per poter uscire soprattutto nella parte superiore. Secondo il prezzo. Questa tenda costa 400 euro sul sito ufficiale The North Face online si trova a 290-300. Secondo me il prezzo ideale per questa tenda sta sui 220-230 euro. Sicuramente non di più. Anche perché soprattutto per quanto riguarda il materiale della tenda esterno, del tele esterno non ha neanche così tanta impermeabilità. Detto ciò se vorreste acquistarla sì sicuramente poi vi potreste trovare bene cioè per il trekking se non andate troppo in alto quindi non avete magari tanto problema di condensa può anche andare bene. Diciamo che a mio parere ci possono essere delle tende che spendendo la stessa cifra vi possono dare un po' di più. Detto ciò ragazzi una speranza sia stato esaurante e sostivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!